Un'esperienza molto bella nasce circa due anni fa e nasce con la Ferrero, quando abbiamo iniziato a lavorare su alcuni progetti veramente molto interessanti, un rapporto col cioccolato, quindi si parte dalla tradizione della Nutella verso qualcosa, verso il quale noi siamo veramente molto molto affezionati ed è stato molto bello confrontarsi con il mondo del cioccolato e con un'azienda indubbiamente leader a livello mondiale da tutti i punti di vista, lavorandoci poi si scoprono delle realtà all'interno dell'azienda che sono qualcosa veramente di unico e ripetibile, delle persone con una professionalità sbalorditiva, una famiglia che gestisce questa azienda con una passione incredibile, dove è veramente piacevole portare anche la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro in un progetto attorno al cioccolato e attorno a tutti quei prodotti che sono i tipici prodotti della Ferrero. Abbiamo avuto l'occasione di lavorare sul primo negozio dal 1963 a oggi che è il Temporary. Il Temporary è stato un negozio realizzato a Milano nel dicembre del 2010 ed è stato poi chiuso nel gennaio del 2011, quindi un negozio che ha vissuto temporaneamente un mese e mezzo, due mesi di vita ed era un modo per poter unire sotto l'unico cappello esistente che è quello Ferrero tutti i prodotti delle praline, quindi da Rocher a Raffaele, Laurent Noir, piuttosto che non al Pocket Coffee e Mon Cherie. Ed è stato un modo per confrontarsi con un progetto che doveva essere un progetto in grado di trasmettere quello che è un'artigianalità di una produzione in una produzione vera, industriale, fino a una vendita al dettaglio. Ed è stato scelto un elemento forte che è quello della pralina stessa, come un elemento conduttore, un elemento che parla di se stesso, che fa colore, che arreda, crea delle linee, crea delle motivazioni di progetto. Ci sono degli studi che abbiamo fatto sui banchi, quindi l'utilizzo di banchi che in qualche modo mettono in evidenza il prodotto e lo rendono diverso dal prodotto che ovviamente si può trovare in un qualunque bar o negozio, supermercato che sia. Volevamo valorizzare il prodotto e pensiamo di esserci riusciti. Volevamo valorizzare la produzione, l'artigianalità e questo è stato fatto mettendo in vetrina i pasticceri. Ed è stata una sfida bellissima perché portare dei pasticceri in una vetrina è stato molto bello, un sistema attrattivo e hanno fatto vedere come vengono prodotti i cioccolatini. La struttura dei banchi che è una struttura molto dinamica, molto pulita, il materiale doveva essere un materiale in grado di recepire il cioccolato e doveva essere in grado il top dei banconi di non assorbire assolutamente nulla, ma al contrario facilitare il lavoro dei pasticceri che lavoravano con delle spatole del cioccolato direttamente sul marmo, come sempre è stato fatto e come in qualche modo viene fatto da macchinari che oggi riescono a realizzare un rocher in tempi infinitesemente brevi in confronto a quello che è il tempo della realizzazione di un artigiano. Questo temporary shop è importante per noi perché è stato il momento di confronto con un prodotto molto forte e assolutamente internazionale, esporlo, cercare di valorizzare il prodotto, cercare di mettere in evidenza la singolarità di un prodotto che bene o male tutti noi conosciamo. È stato il motivo, il momento per ripensare a uno spazio che era uno spazio temporaneo, quindi un ambiente che era stato dato in gestione per tre mesi alla Ferrero in modo tale che lo modellasse a seconda delle proprie esigenze. L'abbiamo allestito, è stato un allestimento per un periodo molto breve dove abbiamo plasmato e trasformato completamente uno spazio assolutamente indefinito. Gli abbiamo dato un carattere di un negozio e abbiamo fatto uno show veramente con il pubblico cercando di coinvolgerlo assieme ai pasticceri e alla produzione. Per noi era molto importante riuscire a esprimere il valore di un'azienda attraverso un progetto. Crediamo di esserci riusciti e stiamo lavorando su sperimentazioni di questo tipo perché trattare, comunicare il cibo è comunicare cultura ed è comunicare un progetto. Trasformare il cibo in un progetto architettonico è qualcosa di complesso, molto importante. La vera differenza la fa riuscire a interpretare bene il prodotto e sapere quello che si sta facendo e dargli lo spazio preciso e il carattere e l'apparenza giusta che il prodotto merita.